Interferenze illecite nella vita privata altrui aggravate da molessi ed ingiurie. Con questa accusa un cinquantenne di San Martino Vallecaudina è stato rinviato a giudizio. All'epilogo di questa brutta storia si arriva grazie al minuzioso e scrupoloso lavoro effettuato dagli agenti della locale polizia municipale che per mesi hanno svolto l'indagine. Tutto è cominciato dopo che un anziano stanco di essere perseguitato dal suo vicino di casa ha presentato una denuncia. L'ottantenne nella querella ha riferito di essere finito insieme ai suoi familiari nel mirino del vicino di casa il quale non perdeva occasione per ingiuriarlo anche in presenza di amici e parenti della vittima o per scattare foto e realizzare video con il telefonino. Una situazione è divenuta insostenibile al punto tale da compromettere un regolare svolgimento della vita quotidiana dell'ottantenne. Le indagini avviate dopo la denuncia svolte dal capitano Serafino Mauriello su precise indicazioni della procura della Repubblica di Avellino hanno confermato le accuse di l'anziano. Sono stati ascoltati vari testimoni e sono stati svolti mirati i servizi anche da agenti in borghese che hanno consentito alla competente autorità giudiziaria di imputare al vicino di casa dell'anziano i reati ipotizzati dall'organo di polizia.